e ciao a tutti ragazzi io sono kia phantom hive e oggi volevo fare un brevissimo tutorial su una cosa stupidissima però che io trovo bellissima personalmente e che mi domandavo per mesi come cavolo si facesse allora la cosa è personalizzare il proprio nome in mother world a2 come colorando la scritta del proprio nome siccome vedo anche molto spesso degli utenti con il nome colorato nelle sale d'attesa e quindi mi lanciavano sempre continuamente un messaggio della serie trova quel cavolo di tutorial che ti permetti di personalizzare il tuo nome dai così lo rendi un po più figo anche tu no e io insomma non capivo come si faceva e dall'altro ci sono rimasta veramente male perché ci sono solo pochissimi tutorial due in tutto e nessuno se ne cura cioè come si fa a non non illustra non fare illustrare una cosa così bellina allora adesso ve lo faccio vedere così si digarba allora innanzitutto dovete schiacciare il tasto con il lucchetto che è il bloc maiuso credo e il ctrl insieme se cazzata volevo dire il tasto con una freccina che va a sinistra e una destra insieme con il maiuscolo insieme vi arriva praticamente questa cosa che ecco vedete tutto questa roba cifrata che sembrano degli algoritmi di matematica non è altro che la chiave per scrivere il nome colorato e non vi preoccupate non è niente di difficile tra l'altro se mi volete aggiungere su steam mi chiamo chi ha quanto mai ecco magari ecco che però è scritto un po in codice se ci fate caso vedete c'è perché c'è l'1p voi dovete leggere le lettere p a n t o m h i b e magari facciamo che ve lo normalizzo per un paio di settimane così potete aggiungermi tranquillamente vabbè ora andiamo al punto voi schiacciate il tasto destro del mouse ok cambia nome del profilo vedete che c'è tutto strafila allora in pratica come nel blocco noto che si fanno tutti i processi per fare gli scherzi e computer eccetera che ci vogliono di simbol chiave ci vuole anche qui in pratica cosa ho fatto prima di scrivere ogni lettera dovete fare il trattino quello che si usa per questo emoticon se adesso vi faccio vedere un attimo eh ok non faccio vedere questo così capite meglio vedete ve lo ingrandisco anche voi fate quel simbolo lì affiancato con l'1 e la lettera perché il simbolo va sempre affiancato dal numero ragazzi perché se non li affiancate non mi viene colorati quindi simbolino 1 simbolino simbolino 1 lettera simbolino simbolino 2 lettera simbolino 3 lettera 4 5 6 7 8 e così via a seconda di quello che volete scrivere e a seconda di che colore lo volete fare adesso mi raccomando prendete nota di carta e penna che così vi dico vedete 1 equivale al rosso quindi simbolino 1 con la lettera che volete se volete farla al rosso simbolino 2 se volete farla verde 3 giallo 4 blu 5 verde acqua 6 fucsia 7 beige 8 nero perché ho provato a sentire anche di quelle filocastronate che dicevano che il fucsia era rosa che il beige era marrone e che il verde acqua era azzurro ragazzi le didascalie dei colori si studiano alle medie quindi non vorrei dire e quindi questo è quanto quindi potete personalizzare la vostra scritta così e quindi che dire mi raccomando lasciate un bel commento un bel mi piace se mi è piaciuto potete condividerlo come sempre come vi dico sempre in tutti i video nella vostra bacheca di facebook con quella di un apico a cazzo mi stavo ammazzando niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao